La forza di Danone viene dal suo interno, da noi stessi, dal nostro team, dalla nostra struttura aziendale, dalla nostra cultura e dai nostri valori. Negli ultimi sei anni siamo stati guidati dal Code. Oggi è il momento di cambiare. Non una rivoluzione, bensì un'evoluzione. Abbiamo bisogno di cambiare se vogliamo rimanere Danone, se vogliamo incarnare la visione di Danone Manifesto, se vogliamo supportare e sostenere le ambizioni di Danone 2020, se vogliamo far crescere centomila straordinari talenti della Danone Company. Benvenuti nel nuovo Codes. La S è fondamentale, è la spina dorsale del nuovo Codes. Significa consapevolezza di noi stessi, perché il cambiamento inizia da noi, il che vuol dire essere equilibrati, capire noi stessi e impegnarsi per crescere. E. Sviluppiamo noi stessi e team eterogenei. Rafforziamo l'impatto collettivo attraverso il lavoro di squadra e la diversità. Valutiamo in modo equo. Ci prendiamo cura delle persone e del loro sviluppo. D. Lavoriamo per ottenere risultati sostenibili. Generiamo valore per Danone, i clienti e la comunità, garantendo standard elevati. Ci assumiamo responsabilità e prendiamo decisioni. O. Creiamo connessioni all'interno e all'esterno dell'azienda. Costruiamo relazioni autentiche. Influenziamo e mobilitiamo i partners attraverso le nostre convinzioni. C. Creiamo un futuro significativo. Osiamo sfidare e guidare la trasformazione. Costruiamo insieme una visione coinvolgente. Questo è il nuovo CODES. Quindi, come lo useremo? Lo useremo sempre. È un modo di pensare, un insieme di attitudini e di comportamenti. CODES è molto più di un insieme di lettere. Lo applichiamo a tutti. CODES è per centomila Danoners. Ci focalizziamo su comportamenti che supportano la trasformazione del business. CODES è business. Lo usiamo per crescere personalmente e professionalmente. CODES è per la crescita di tutti. CODES per me. Sviluppo la mia leadership perché tutti sono o possono diventare un leader. CODES per il team. Sviluppiamo dei team eccellenti. CODES per Danone. Cambiamo per rimanere Danone. CODES per me. CODES per il team. Iniziamo questo viaggio imparando CODES assieme.